Prende molto perché comunque già che è situato nel centro storico della città è molto travolgente diciamo e prende non solo gente che deve giudicare o le giurie in particolare ma tutta la città e quello è il bello di questo festival. Ovviamente poi è anche una città che è bellissima con tutte le sue sfaccettature tantissimi stili diversi, tantissime storie, tantissime tematiche molto anche pesanti, leggere ma comunque corti che comunque si fanno vedere di ottima qualità ma anche di ottime strutture e sceneggiature. La tematica che mi ha capito di più è quella politica che alcuni corti hanno messo in risalto da magari la pena di morte o comunque la coesistenza di stati che fanno capire un po' la situazione generale in cui viviamo oggi, di stabilità. Grazie Grazie Grazie